Si è svolta in Kenya nel mese di agosto la consegna ufficiale della missione di Kipsing alla chiesa locale di Isiolo alla presenza del suo vescovo Monsignor Anthony Reri Mukobo. Una piccola rappresentanza della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola guidata da Don Giancarlo De Santi e da Don Matteo Pucci direttore e vice direttore del centro missionario ha voluto essere presente all'evento e ha condiviso la vita della chiesa locale per alcune settimane. È stata una piccola esperienza di chiesa un po' oltre i confini del nostro modo di vivere la fede, quella vissuta in terra d'Africa. Ci ha raccontato Filippo oltre alla cerimonia liturgica ed alcune scene di vita nella missione abbiamo potuto vedere anche i tanti progetti portati avanti in questi anni dalla missione grazie all'impegno di Don Luciano Gattei, sacerdote diocesano a fidei dono. L'evangelizzazione nei villaggi, la gestione dei dormitori per i ragazzi frequentanti le scuole primarie, la nuova chiesa, la casa parocchiale, il pozzo, gli asili e il mulino. Tutte opere che si inseriscono in un cammino ben preciso di evangelizzazione e promozione umana che ha sempre visto la gente del posto protagonista delle scelte e dell'impegno nel costruire. L'esperienza missionaria in Kenya per la nostra diocesi si chiude ora con il rientro di Don Luciano Gattei ma di certo non si chiude e non termina l'impegno missionario a Gentes che il signore stesso ha lasciato alla sua chiesa. Anche il campo missionario regionale vissuto quest'estate da 100 giovani delle Marche ha lanciato la sua proposta su questa tematica ovvero poter avviare una missione di primo annuncio che sia della chiesa marchigiana e che possa essere affidata ai giovani delle nostre diocesi. Affidiamo dunque nelle mani del signore il futuro dell'esperienza missionaria della chiesa di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola oltre i confini della nostra diocesi.